Dino Baggio spiega le parole servono verifiche su integratori usati. Roma Dino Baggio, ex centrocampista di Torino, Inter, Juventus, Parma e Lazio tra le altre. Dopo le sue recenti dichiarazioni ha ribadito il suo concetto sulla questione delle sostanze utilizzate in passato nel calcio in un'intervista esclusiva a Rai News 24, non è che prendevi robe strane. Prendevi delle robe normali, però bisogna vedere nel tempo se queste restano dentro o riesci a buttarle fuori oppure no. Bisognerebbe un po' risalire a quello che abbiamo preso in quei periodi. Servono verifiche e prove scientifiche su prodotti leciti non dopanti, cioè gli integratori. Virgola.